Ciao dolcezze, oggi nell'art dedicata ai cartoni animati, questa volta mi sono ispirata ai Fleaston, al vestito di Fred Fleaston, spero che vi piaccia la mia idea, se volete sapere come si fa, seguite il tutorial, un bacio! Come primo passaggio ho steso la base della Rimmel, il secondo passaggio è creare il vestito di Fred, e sto usando il 356 della Kiko a un color melone, aiutandomi con il dotterino sempre della Kiko, questo qui. Come vedete sono partita creando la fine del vestito, adesso cosa faccio? Direttamente con il pennello dello smalto riempio il resto dell'unghia. Adesso con uno smalto nero, io sto usando questo qui della Deborah Milano, dei Pret-à-Porter numero 71, e un pennellino fine, vado a delineare il vestito. Delineato il vestito, vado a creare la cravatta, come ho fatto qui, usando il 714 della Sting color di Pupa Milano, è un azzurro molto molto bello, sempre con l'aiuto di un pennellino fine. E adesso, sempre con il nero, delineo tutta la cravatta. Delineata la cravatta, adesso, sempre con lo smalto nero e il pennellino fine, vado a creare i triangolini nel vestito. E ecco qui dolcezze, il risultato finale, spero che vi piaccia, devo dire che a me piace tantissimo, è allegra al 100%, fatemi sapere in un commentino cosa ne pensate, io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video, ciao!